Bene, parliamo oggi di un momento molto particolare in Francia, abbiamo con noi in collegamento da Parigi Veronica Noseda. Buongiorno Veronica. Buongiorno a voi. Dicevo un momento particolare perché c'è anche un po' contraddittorio, perché da una parte abbiamo un ministro degli interni del nuovo governo Barnier che annuncia un piano ancora più restrittivo rispetto all'immigrazione, diciamo, definita così illegale, che fa molto piacere in realtà all'estrema destra francese che in sostanza mantiene a galla questo governo, eventualmente, sotterra poi la fiducia. E dall'altra c'è il processo però a Marine Le Pen. A Marine Le Pen che è accusata di aver utilizzato, messo al servizio del suo ufficio a Parigi, gli impiegati pagati con i soldi dell'Unione Europea. Cioè devono essere dei funzionari che andavano a Bruxelles, in realtà lavoravano per lei in Francia e sono diversi. Allora, Veronica, come valutiamo questo momento e questa contraddizione apparente? Diciamo che Marine Le Pen, molto cosciente di questo momento estremamente delicato per lei, ha fatto la scelta di consacrarsi interamente al processo, quindi lei è presente. Ieri c'è stata un'audizione della durata di sette ore, durante sette ore è stata a processo Marine Le Pen e ha così delegato Giordano Bardellà, il suo forse futuro primo ministro, se lei riuscisse ad avere così la presidenza della Repubblica. Quindi ha delegato Giordano Bardellà alle questioni più politiche, più governative. Va ricordato che proprio oggi è iniziato l'esame della finanziaria, nella Commissione delle Finanze, e sarà una battaglia feroce perché non si sa ancora se il primo ministro Barnier riuscirà a sopravvivere a questa prova. Quindi diciamo che la contraddizione che hai perfettamente descritto Aldo è gestita internamente con questa divisione dei ruoli. Certo, allora vediamo di dividere un attimino le cose, soprattutto di concentrarci sul processo a Madame Le Pen. Ci si può chiedere cosa rischia, perché diciamo l'atto di accusa è abbastanza pesante. Si dice che la cosa che potrebbe maggiormente danneggiarlo ovviamente è quella dell'esclusione, la sua non elegibilità per un certo periodo di tempo e questo basterebbe per escluderla dalla prossima corsa all'Eliseo, che è il suo grande obiettivo. Assolutamente, diciamo che la pena può essere una pena molto pesante da un punto di vista della detenzione perché va fino a 10 anni. Bisogna dire che è stato calcolato che sono diversi milioni che sono stati sottratti al Parlamento europeo, si è fatto un calcolo intorno ai 3,2 milioni così utilizzati in maniera non conforme al servizio del partito qui in Francia, ma soprattutto quello che pesa la spada di Damocle è questa condanna possibile all'ineleggibilità e questo chiaramente segnerebbe una frattura totale in questo piano che Marine Le Pen costruisce ormai da più di 10 anni. Il rischio è reale, ma secondo me non è completamente sicuro, anzi affatto. Ci sono stati dei processi simili tra l'altro con le stesse accuse che sono sfociati su dei non-lieu, quindi come si dice in italiano, un luogo a procedere. Lei è a rischio perché lei era al contempo deputata europea e presidentessa del partito e questo doppio ruolo, questa doppia responsabilità la espone in maniera molto critica in questo processo, ma bisogna vedere perché appunto come si è già detto in un'altra trasmissione con voi, il Rassemblement Nazionale non è affatto il solo partito che ha utilizzato questi mezzucci per potersi finanziare, perché alla fine loro avevano avuto un risultato molto importante appunto nel 2015 che ha permesso così di finanziare un partito che era quasi in bancarotta. Sì, però c'è un precedente interessante, è quello di François Fillon, che era del partito post-gollista repubblicano, che nel 2017 venne beccato con le dita nella marmellata, una marmellata piuttosto sostanziosa, nel senso che aveva assunto in queste equip che dovrebbero andare a Bruxelles, aveva assunto sua moglie Penelope e andò a processo, resistesse perché era candidato del partito post-gollista per le elezioni presidenziali che poi vennero vinte da Macron, se ne ricordo, e resistesse, resistesse, ma alla fine anche perché all'interno del partito repubblicano si creò una grossa spaccatura, cedette e questa affaire gli costò prima una condanna abbastanza severa in tribunale e poi la rinuncia, la corsa all'Eliseo, quindi un precedente c'è. Un precedente che però differisce un po', nel senso che nel caso di François Fillon il problema è che l'impiegata era la moglie, tra l'altro la moglie e i figli, quindi c'era questo clientelismo proprio familiare molto presente e che tra l'altro questa moglie non ha assolutamente prodotto nessun tipo di lavoro, quindi c'era veramente un vuoto e quindi era veramente un impiego fittizio. Nel caso della Le Pen è un po' diverso, nel senso che lei ha impiegato del personale, dei collaboratori che invece di essere occupati dei dossier europei hanno lavorato per il partito, ma hanno comunque lavorato. Diciamo che in questo senso c'è forse anche un po' un occhio quasi benevolo da parte degli altri partiti, perché ricordiamo che appunto il modem di François Bayrou ha avuto esattamente le stesse accuse ed è stato sotto processo. La France Insoumise di Mélenchon ha esattamente le stesse accuse, non c'è ancora il processo, ma queste pratiche sono delle pratiche che sono state molto diffuse presso molti partiti che avevano dei problemi di soldi, quindi di finanziamento e che hanno scelto di deviare dei finanziamenti europei per poter poi invece fare delle attività qui in Francia. Quindi è vero che c'è questo precedente, ma diciamo che il precedente di François Fillon aveva una connotazione ancora più così quasi da basso impero che è meno presente nel caso della Le Pen, anche se si sa che tra questi sei impiegati, sei collaboratori per esempio c'è una persona che si è occupata della sicurezza del padre, Jean-Marie Le Pen, una specie di guardia del corpo, un legionario, potete immaginarvi il personaggio che è, assolutamente è impensabile che questo legionario abbia svolto un qualsiasi ruolo né a Bruxelles né a Strasburgo, quindi c'è anche un lato quasi un po' ridicolo, è un omone che si è occupato di assicurare la protezione. Una sorta di badante dell'anziano. Adesso badante, perché a Marine Le Pen è messo male, tra l'altro regolarmente ci sono delle false allerte e si teme che sia alla fine che sia morto, però è effettivamente molto anziano, anche poco presente intellettualmente, non lucido. Bisogna dire che sono pratiche che non sono solo francesi, si sa che in altri paesi sono successe queste cose. La cosa particolare è che Fillon, fino al momento dello scandalo, dello scoppio dello scandalo, era il grande favorito per arrivare all'Eliseo, diciamo costretto alle dimissioni, poi sale Macron all'Eliseo con oltre il 60% dei voti, una cosa abbastanza straordinaria, la grande novità, eccetera. Abbiamo visto dove siamo arrivati. Dunque, quel tribunale praticamente ha cambiato la storia della Francia. Ora, tu dicevi dell'atteggiamento benevolo dell'opposizione. È per questo che i giornali o comunque i partiti dell'opposizione non sono molto caldi su questo processo, mi sembra di aver visto. Secondo me sì, diciamo che si sentono tutti un po' con la mano nella marmellata, hanno tutti paura di essere scoperti. Chiaramente Marine Le Pen, quando si leggono un po' gli articoli che così riproducono un po' le sue posizioni durante il processo, vuole fare di questo processo un po' un processo politico, tra l'altro denunciando così un po' questa Unione Europea, questo Parlamento come una specie di porto delle nebbie dove non succede nulla. Lei anzi ha quasi salvato queste persone, le ha messe al servizio di cose molto più importanti, molto più concrete. Quindi lei, siccome tra l'altro è un'ottima oratrice, ha una difesa molto ideologica. Ripeto, non sono sicura che sia questo il punto che farà da perno a questo processo. Secondo me è più un'atmosfera generale in cui molti partiti, direi quasi tutti i partiti hanno avuto delle pratiche, soprattutto i piccoli partiti, quelli che avevano appunto dei problemi ad avere le casse piene e che quando hanno avuto un successo importante in Europa hanno ricevuto questa manna finanziaria per stipendiare questi collaboratori e chiaramente hanno utilizzato questi soldi per altri fini. Quindi, in effetti, come dici tu, anche l'opposizione è piuttosto silenziosa in questo momento. E' un po' tiepida nei confronti. Un po' tiepida. Sul processo, mentre sul governo le cose sono diverse. Scusa? Dico sul processo siamo silenziosi, mentre invece per quello che è la battaglia in questo momento parlamentare e la battaglia contro il governo queste voci si fanno molto sentire. Certo, ce ne parlerai subito. Volevo solo ricordare che era poi il periodo, quello che abbiamo evocato, che tu hai evocato, in cui Le Pen aveva chiesto un prestito abbastanza sostanzioso a una banca russa, che evidentemente non poteva dire di no se Putin avesse preso una decisione contraria al fatto di concedere questo prestito, diversi milioni di dollari in sostanza. Allora andiamo invece al momento politico che è caldissimo perché il governo si sta presentando soprattutto con la decisione della battaglia contro il debito. Il primo ministro designato ha detto questa è la priorità assoluta, tutti dovranno fare sacrifici. cosa sta succedendo? Succedendo che Barnier è in uno stato di fragilità estrema, tra l'altro proprio qualche minuto fa ho guardato ancora su Le Monde l'attualità e ho visto che Giordain Bardellat ha detto che stando così le cose non voterà la finanziaria e quindi non voterà questa legge sul budget dell'anno prossimo che dovrebbe appunto ridurre, ricordiamo, il debito di 60 miliardi. Quindi la sinistra è scontenta, il Rassemblement National è scontento, la destra addirittura, la destra di Barnier è scontenta perché Barnier ha comunque fatto una scelta non completamente in linea con la destra classica, nel senso che ha molto, è chiaramente un progetto estremamente rigorista e molto liberale, con dei tagli alle spese ingentissimi, però ha anche scelto di toccare le imposte e le tasse e questo chiaramente ha suscitato un grande vespaio in seno alla destra. Quindi chi sosterrà questo governo? La domanda che tutti si fanno, riuscirà veramente Barnier a sopravvivere a queste prossime settimane che saranno veramente la prova del 9 per la sua compagine? Si rischia di andare a quella che in Francia chiamano la censura, al momento di andare a votare il nuovo governo c'è la possibilità di decapitarlo subito con la censura. Tu dici in questo momento è tornata a galla questa possibilità, perché all'inizio sembrava che le cose bene o male si potessero mettere a posto. Secondo me sta tornando a galla, anche se sono tutti dei piccoli giochi, delle piccole manovre per fare anche pressione su questo governo. Realmente il Rassemblement Nazionale non voterà questo budget? Nessuno è sicuro, sono anche molto delle grandi dichiarazioni per poter così un po' far pressione appunto su Barnier e sui suoi ministri e poter ottenere questa grande posizione di grande vantaggio che ha la Rassemblement Nazionale, perché chiaramente è dal voto dei suoi deputati che dipende la sopravvivenza di questo governo. Quindi c'è una pressione enorme e bisognerà capire come Barnier riuscirà a gestire appunto questa pressione. grande equilibrista, capace di mediare fra l'Unione Europea e la Gran Bretagna per il dopo Brexit, è stato lui il protagonista di quel negoziato, anche se poi il negoziato si è chiuso con un accordo e subito dopo sono cominciati i problemi fra Gran Bretagna e il resto d'Europa, in particolare fra Gran Bretagna e Francia, come tutti dovremmo ricordare. Beh, vediamo come andrà a finire, non potrà trascorrere molto tempo, questa cosa sta tenendo diciamo il paese in sospeso da mesi. Da mesi, è una situazione assolutamente inedita, cioè la Francia che era considerato uno dei paesi con la Germania, uno dei paesi più stabili, più sicuri, con appunto tra l'altro comunque nonostante le crisi, certo Francia molto meno brava, molto meno saggia nei conti che i frugali del nord e che la Germania, ma comunque più o meno in grado di mantenersi a galla, qui abbiamo un debito a 6,1%, un vuoto governativo che è durato quasi due mesi e un governo attuale che è fragilissimo e quindi è una situazione assolutamente inedita che secondo me ridisegnerà comunque anche gli equilibri in Europa. Adesso tutta la concentrazione è basata sull'ombelico nostro, qui appunto parigino, l'Assemblea nazionale eccetera, ma la realtà è che questa situazione avrà delle ripercussioni anche in Europa, per adesso non se ne parla molto, tra l'altro c'è appunto anche i nuovi commissari, insomma è una situazione molto così inuce, in fieri anche per l'Europa, ma chiaramente ci sarà un impatto anche sulla politica europea. Certo, e chissà che non abbia qualche conseguenza anche sulla struttura della Quinta Repubblica che era stata immaginata da De Gaulle, proprio per dare quella stabilità di cui tu parlavi. Macron ha corretto in parte certe regole della Quinta Repubblica che permettono oggi al rassemblement nazionale di allora e quelli che sono oggi in Repubblica nazionale di essere il partito maggioritario, ecco un altro paradosso, cioè Macron aveva corretto le regole della Quinta Repubblica e si ritrova con la signora Le Pen, processo o non processo, comunque attraverso Bardellà, nella condizione di poter conquistare l'Eliseo nella prossima elezione. Ne vedremo, allora ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni o comunque nelle prossime settimane per la conclusione di questo dibattito. Lieton, per lieton, possiamo parlare, possiamo vedere, telenovela. Va bene, grazie. Grazie mille, grazie mille Veronica. A presto, arrivederci, ciao. Ciao, ciao. Grazie.